si lungo bard che te che che cosa cos'è andiamo a mangiare gnocco fritta parma dai non c'è più il tetto 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 tutto no una volta che che cazzo ci fa sto coso qua cosa ci fa ma che cosa metti dentro non c'è più niente da mettere no mi piacerebbe di farlo però non mi piacerebbe di farlo una copertina è venuta per te sei fotogenica piace aspetta aspetta che sta a scala qua